Abbiamo giocato tutti in avanti, il Genova ha fatto quel tiro a lei e non ha quel gol, se no il portiere nostro ne ha fatto un parato difficile di nessuno. Sono tre punti d'oro perché lasciamo la Genova a quattro punti da noi e abbiamo anche superato la Lazio. Ma si credeva alla fine? Certo, ci credevamo fino all'ultimo minuto. Proprio contento Frosinone, vinci stasera, contentissimo proprio, cuore proprio. Volevo solo dire una cosa, da quando segue Frosinone questa è la partita più brutta che ha giocato il Frosinone, però il pallone si sa, è fatto così, è la bellezza del gioco del calcio, che anche giocando male si vince. Comunque sono tre punti fondamentali, una partita un po' frenata e quindi è così. Teniamo una squadrona, raga, ma di che vogliamo parlare? Bravo, sintesi perfetta. Teniamo una squadrona. Stato in piazza a Monterisi, a De Matteis faremo una piazza a Monterisi, bellissima. Piazzelario Monterisi. Assolutamente sì. Di quelle partite che bisognava vincere, l'abbiamo vinta anche se non è stata la più bella partita che abbiamo giocato onestamente. I nostri ragazzi, il Frosinone, è uno squadrone, non molla mai. Sono stati i primi due gol, due gol, euro gol, uno più bello dall'altro. E alla fine, ecco qua, Monterisi ci ha fatto solo il grande gol. La nostra forza è stata rimanere in gara nonostante che non giocavamo bene. Siamo rimasti in gara e con la nostra tenacia, bravissima, abbiamo portato i tre punti a casa che meritatamente al 100% no. Però visto altre partite che non abbiamo avuto quello che meritavamo, questa sera abbiamo recuperato qualche debito.